A vederlo così sembra un normale retino attaccato alla banchina, in realtà basta soffermarsi pochi minuti ad osservarlo per capire esattamente che cosa fa. Il Sibin è un divoratore di plastiche microplastiche che attraverso una pompa d'immersione crea un vortice che cattura tutto quello che galleggia in acqua e che non dovrebbe esserci e ripolisce così lo specchio d'acqua antistante, instancabilmente 24 ore su 24 e capace di raccattare oltre 500 kg di rifiuti in un anno. Fano, oltre a San Benedetto del Tronto, è il porto delle marche nel quale è stato installato venire discorso questo dispositivo per una campagna plastic-less promossa dal colosso mondiale di elettrodomestici Whirlpool per fermare l'inquinamento dei mari. Lo stesso ministro Costa ha lanciato una campagna Io sono ambiente, anche noi siamo ambiente ed è questo il nostro gesto per contribuire. Uniamo le forze e sentiamo al nostro interno questo desiderio di educare innanzitutto noi stessi ma soprattutto le generazioni future. Installato nel porto turistico della Marina dei Cesari è presentato alla stampa la presenza delle autorità locali e regionali in piena linea con la filosofia legata all'ambiente del porto turistico. Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti per questa sperimentazione sia per l'importanza dei personaggi Whirlpool, Lifegate, sia perché questo premia il nostro sforzo da anni. Quello che mi auguro con tutto questo sforzo collettivo, oltre a Clean Sea Life che ci vede insieme da anni, adesso anche plastic-less, io mi auguro che presto in mare galleggino solo piume di gabbiano e ramoscelli portati dal vento, nel nostro porto e in mare. Fano che ha anche recepito subito la campagna plastic-less promossa da Lifegate, la principale piattaforma in Italia attiva sui temi della sostenibilità. Queste iniziative hanno due significati, da una parte è un'azione innovativa, concreta, nel recupero delle plastiche e delle microplastiche. Fra l'altro le microplastiche sono quelle più anche pericolose. E l'altro è un lavoro culturale, perché l'altra sfida è vincere l'ignoranza delle persone che attraverso i propri comportamenti fanno dei danni inestimabili. E allora l'altra sfida, l'altro sforzo è quello di educare la gente a far comprendere il valore del mare, l'importanza e a tenere comportamenti e consumi idoni, rispettosi dell'ambiente che ci circonda, a cominciare dal mare.